Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma per traffico intenso ci sono code tra Valdichiana e Fabbro. Per materiali dispersi traffico rallentato tra incisa Reggello e Arezzo. Su raccordo Siena-Firenze per lavori in entrambe le direzioni rallentamenti tra San Casciano e l'allacciamento per la 1. Sulla A11 fare attenzione per un mezzo pesante Navaria segnalato tra Chiesina, Unzanese e Alto Pascio in direzione Pisa. Sulla A12 è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata in direzione Livorno e in uscita in direzione Sud. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo, catene da neve o pneumatici stagionali. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!